Stop interno per lo Sporting Ponte Cagnano, sconfitto dal Buccino Volcei per tre reti ad una nella ventiduesima giornata del campionato di promozione. Una prestazione deludente da parte dei gialloblu, passati in svantaggio ad opera di Ngie al trentanovesimo del primo tempo. Un minuto dopo il raddoppio degli ospiti con barra. Secondo tempo sulla stessa lunghezza d'onda per i padroni di casa, che non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica dopo l'espulsione del numero 5 del Buccino Magliano. A poco è servito il gol di Cassetta al quarantunesimo, utile solo per le statistiche. La partita ampiamente finita, la doppietta di Ngie che ha fissato il risultato sul 3-1. Per il gialloblu è la seconda sconfitta consecutiva. Il mister ha concluso la partita in tribuna, che cosa è successo con l'arbitro? Ma vabbè, c'è stato un po' di parapiglie su una punizione dove sicuramente era interpretata in modo sbagliato dal mio punto di vista. Che comunque l'avversario deve stare a distanza e non può stare vicino alla palla. E lui invece ha munito il mio giocatore, dopo di che tra prima e secondo tempo gli hanno raccontato 3 o 4 e mi ha cacciato fuori. Per il resto una partita dove secondo me non meritavamo questa sconfitta. Giocata benissimo, impostata bene, aggredendo comunque loro. Loro hanno fatto molti lanci lunghi. Noi con un po' di qualità sulle fasce abbiamo cercato di girare sull'esterno nella loro difesa per entrare. Secondo me ci siamo riusciti. Peccato perché in un paio di occasioni secondo me potevamo andare noi in vantaggio. Dopodiché purtroppo da due frittate abbiamo avuto due gol contro. Per il resto il terzo gol è stato alla fine. Dopodiché niente. Tanto rammarico. Sicuramente penso che è una delle sconfitte immeritate e che brucia di più. Anche perché i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Avevamo anche una squadra con qualche defezione e quindi adattando un centrale difensivo, recuperando dei giocatori che durante la settimana non si sono allenati. Però in tutto questo comunque la gara l'abbiamo fatta bene. Peccato perché abbiamo questi momenti di distrazione dove semmai subito dopo il primo gol che prendiamo qualche volta ci mentalmente scompariamo un attimo dal campo e poi dopo riprendiamo. Grazie a tutti.